Dall'Appennino alle Alpi le buone pratiche per il futuro del lupo in Italia. E' stato il tema del forum Wolfnet 2.0 per la tutela del lupo in Italia, svoltosi a Sulmona nella sede dell'Ente Parco Nazionale della Maiella, all'Abbazia Celestiniana. Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. A due anni di distanza dalla sottoscrizione della carta di Sulmona, il documento fidale del progetto Life Wolfnet, che ha individuato le direttrici gestionali ritenute prioritarie per la conservazione del lupo nell'Appennino, questo meeting nazionale ha inteso fare il punto della situazione, tracciare gli scenari futuri e definire le questioni da affrontare, a partire dalle principali criticità legate alla convivenza con le attività umane, per continuare a garantire la conservazione del lupo su tutto il territorio italiano. Sono intervenuti i responsabili dei parchi abruzzesi e di altre regioni italiane per raccontare la propria esperienza di legambiente, confagricoltura della Confederazione Italiana Agricoltori, di Coldiretti, della Forestale e del Lanci. Le conclusioni sono state affidate all'assessore regionale ai parchi a riserve donato di Matteo, la carta di Sulmona, affermato di Matteo, espressamente richiesta dalla Commissione europea ed è supportata dal Ministero dell'Ambiente, che ne promuove l'inserimento nella redazione del prossimo piano d'azione nazionale per il lupo in Italia. Oggi a Sulmona, aggiunto l'assessore, i gestori di aree protette e gli animatori locali impegnati nelle azioni di tutela del lupo e di miglioramento delle condizioni di coesistenza tra i carnivori selvatici e le attività antropiche, si sono dati appuntamento per riunire e definire gli elementi di maggior interesse ed efficacia contenuti nelle buone pratiche finora messe in atto per il futuro del lupo in Italia e in Appennino. Un incontro importante ha concluso per far crescere le nostre aree e per tutelare uno dei principali attori della fauna selvatica abruzzese.